Le forme di governo sono imperfette e la democrazia non sfugge a questa regola, specie in un momento come questo in cui i paesi totalitari ritengono di poter profittare di incertezze e lentezze per poter rovesciare la situazione economica a loro favore. Sosteneva Norberto Bobbio che la decisione democratica è senza dubbio quantitativa, il maggior numero di, ma è necessario per il bene comune e per evitare alla lunga il declino che sia anche una scelta qualitativa. Un elettorato ignorante o asociale, scriveva Bobbio, di elettori stoltamente egoisti produce il male comune, lo scontro di egoismi, la dissociazione, il potere criminale. La politica democratica è conteggio di quantità, scriveva sempre lui, ma deve essere nello stesso momento anche scelta etica, sostenuta da ragioni etiche, da doveri morali verso gli altri, verso la cosa di tutti, al di sopra degli affari propri. Ecco che allora la democrazia regge se fonda le basi su un elettorato istruito e cosciente di valori fondanti che non possono essere messi in discussione. Sull'ignoranza del popolo invece fondava la sua forte opposizione alla democrazia, uno come Platone, che faceva l'esempio della nave, prima governata da un sapiente capitano e che poi passava nelle mani della ciurma incolta, non a conoscenza di regole base, nave destinata a naufragare. Di parere opposto, Aristotele, grande sostenitore della democrazia, di una saggezza fatta dal cosciente e responsabile apporto di tanti, convinto che a certe condizioni ciascuno ha una parte di virtù e di saggezza e come quando si raccolgono insieme, scriveva Aristotele, in massa, diventano un uomo con molti piedi, con molte mani, con molti sensi, così diventando un uomo con molte doti. Oggi più che mai abbiamo bisogno dunque di una rieducazione alla democrazia, alla responsabilità comune sul terreno di valori indiscutibili e condivisi prima che le fosche previsioni di Platone portino le fragili ma eleganti e comode le navi democratiche sugli scogli.